Pronto a tesserarti? BASTA UNGIL! Potresti comandarti che vantaggi porti nei tesseramenti online? Beh, grazie a questo piccolo cambiamento le informazioni raccolte saranno più potente e molto più facile da recuperare quando si servisce leplicarle. Il sistema comporta una velocità di gestione di riscrizione mai vista prima. Se infatti, oltre alla possibilità dell'insegnamento dei dati, anche una grande esperienza interattiva che ti accompagnerà step by step durante la tua iscrizione. Se hai dei dubbi sul sistema di tesseramenti, non riesci a guardare gli altri video relativi presenti sul nostro canale YouTube. Hai visto che ci sei? Perché no? Metti un dato! Grazie a tutti!